Ciao a tutti, sono Andrea e come al solito vi do il benvenuto sul mio canale. Prima di iniziare un mio personalissimo pensiero, ovvero che ci sono dei lavori nella vita che bisogna farli solo se si amano, se ci si sente portati. Non si devono fare solo per arrivare a fine mese. Lavori come infermiere, medico, forze dell'ordine in generale e perché no, la babysitter. Se tu o di bambini non puoi pensare di fare questo lavoro solo per soldi. Fare la babysitter richiede un'enorme dedizione, può essere un lavoro molto gratificante anche se molto faticoso. Una tata deve occuparsi delle esigenze dei bambini e soprattutto deve garantire la loro sicurezza e il loro benessere. Proprio per questo i genitori dovrebbero riflettere attentamente sulla scelta di una tata. Nonostante l'assunzione di qualcuno di cui si fidano, però non sapranno mai davvero se il loro bambino sia veramente in buone mani o, al contrario, tra le braccia di una donna crudele e senza cuore come la femmigerata Christine. Prima di partire vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento e un like se il video vi è interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Christine Laverne Slaughter, e qui detto nome omen non fo mai più azzeccato, infatti slaughter in inglese vuol dire macellare, è nata, purtroppo, a Perry in Florida, il 12 marzo del 1963, in una famiglia un po' strana. Diciamo strana per noi perché inizio a credere che in America non lo sia poi molto. Dicevo, sua madre aveva appena a 16 anni quando è rimasta incinta di lei, mentre Thomas, suo padre, aveva già compiuto 65 anni, una differenza abissale di età a cui, però, stranamente, nessuno sembrava dare troppa importanza. Poco dopo la nascita di Christine, sua madre scomparve da casa solo per tornare incinta mesi dopo. Nei successivi due anni e mezzo Anne ebbe altri tre figli, Michael, Earl e Carol. Ma dopo che Thomas subì un incidente sul lavoro e non fu più in grado di prendersi cura di loro, la donna decise di abbandonare tutto e tutti. Presi i bambini, salì in macchina, guidò fino ad un centro commerciale e lì li abbandonò. I poveri bambini non avrebbero più rivisto la loro madre per molto tempo. A questo punto le autorità non poterono fare altro che affidarli ad un orfanotrofio. La piccola Christine fu adottata da Dolly e Jess Falling. Il suo arrivo fu un evento accolto con un'enorme gioia dalla nuova famiglia. In casa si respirava un clima di amore infinito e Christine si sentiva curata e amata dai suoi genitori adottivi. Con il passare degli anni, però, iniziarono a sorgere i primi problemi. Christine cominciò ad avere attacchi epilettici, ad avere difficoltà di apprendimento e a sviluppare un carattere aggressivo verso i suoi genitori. I suoi attacchi di rabbia e il comportamento antisociale cominciarono a causare serie preoccupazioni, ma la cosa peggiore fu che Christine iniziò già in tenera età a uccidere piccoli animali, in particolare gatti domestici, per testare le loro nove vite, come si giustificò in seguito. Spesso faceva cadere i poveri animali dalla finestra, non solo per vedere se sarebbero sopravvissuti, ma soprattutto per vedere l'effetto devastante che avrebbe avuto su di loro l'impatto col suolo. Christine era diventata talmente aggressiva che i suoi genitori furono costretti a chiamare più volte la polizia. Alla fine la ragazzina fu mandata a Orlando e internata al riformatorio, ma dopo un anno, anche se il suo comportamento non era migliorato, nel 1977, all'età di 14 anni, fu comunque rilasciata e riconsegnata alla sua madre biologica. Nel settembre 1977 Christine fu costretta da sua madre e suo padre a sposare un uomo di 20 anni di nome Goober Fallen. Ma il matrimonio, segnato da continui litigi, finì con il divorzio dopo solo sei settimane. Il trauma che subì a causa di questa esperienza matrimoniale la portò a sviluppare la sindrome di Munchausen. Fingeva di sentirsi male e andava continuamente al pronto soccorso. Fu ricoverata più di 50 volte lamentando dolori e malattie che in realtà non aveva. Soffriva di allucinazioni, si lamentava di punti rossi che apparivano davanti ai suoi occhi. I medici ovviamente non erano in grado di identificare cosa avesse perché i suoi sintomi erano tutti inventati per attirare l'attenzione. Una volta addirittura arrivò al pronto soccorso dicendo che era stata morsa da un serpente. Se c'era una cosa che Christine diceva di amare nella vita, erano i bambini. Perciò dopo il divorzio, dovendo cercare un lavoro, iniziò a lavorare come bambinaia per alcuni dei suoi amici e vicini. La giovane aveva una grande abilità nel guadagnarsi, la fiducia dei genitori, che non esitavano a lasciarli alle sue cure perché sembrava proprio una persona di cui ci si poteva affidare completamente. Proprio quella che si definirebbe una personcina a moto, sempre educata e sempre buongiorno e buonasera. Purtroppo però si sbagliavano perché l'inizio della sua carriera concise con l'inizio di una serie di eventi profondamente tristi. Il 25 febbraio del 1980 a Blaustown in Florida, Christine mentre stava badando al piccolo Cassidy Mae Johnson di soli due anni, quest'ultimo che veniva affettuosamente chiamato Muffin, subì un brutto incidente. Svenne e non riuscì più a svegliarsi. Christine portò subito il bambino dal pediatra, che gli diagnosticò una meningite e lesioni cerebrali traumatiche. Purtroppo, due giorni dopo il suo ricovero in ospedale, il piccolo Muffin morì. Christine riferì al medico che Cassidy era caduto dalla sua culla, ma lui che notò una protuberanza sospetta sulla testa del bambino, evidentemente non compatibile con una semplice caduta, non le credette ed esortò la polizia ad indagare su di lei. Secondo l'autopsia, la causa della morte era stata proprio il colpo alla testa, che secondo Christine era stato causato dalla caduta alla laculla. Perciò i genitori non sospettarono mai che la loro tata avesse compiuto qualcosa di illecito che avesse portato alla morte il loro bambino. Sfortunatamente anche quegli sveglioni della polizia ignorarono la segnalazione del medico, adducendo in seguito come giustificazione la perdita della nota in cui era riportata la sua segnalazione. E allora io ti caccio e ti mando a raccogliere cartoni per vivere, altro che fare il poliziotto. Apparentemente il tragico evento, oggettò Christine in uno stato di totale disperazione. Di conseguenza la giovane decise di cambiare città e si trasferì all'Ecleham, dove continuò a lavorare come babysitter. Questa volta le fu affidato il piccolo Jeffrey Davis, figlio di quattro anni di un lontano parente. Anche questa volta la povera Christine dovette affrontare il trauma di una morte precoce. Il bambino morì improvvisamente. L'autopsia rivelò che Jeffrey soffriva di miocardite, una rara malattia causata da un'infezione che colpisce il cuore. Anche questa volta i genitori credettero alla totale estranea età di Christine e la ragazza fu libera di tornare alla sua vita. Solo tre giorni più tardi trovò lavoro come tata del piccolo Joseph Spring, di soli due anni. I genitori del bambino lo lasciarono alle sue amorevoli di cuore per poter partecipare proprio al funerale del piccolo Jeffrey Davis. Anche il povero Joseph, però, che stava facendo un pisolino nella sua culla, non si svegliò mai più. Fu a quel punto che iniziarono a diffondersi dei sospetti sulle strane circostanze che circondavano la morte di tutti quei bambini. Sfortunatamente, però, nessuno aveva alcuna prova reale che Christine fosse la responsabile di tutte quelle morti e i genitori dei bambini deceduti arrivarono semplicemente a credere che fosse vittima di una maledizione, che tutte quelle morti fossero causate semplicemente da una serie di sfortunate coincidenze. Sì, vabbè, saranno pure coincidenze, ma questa c'ha il fuoco nelle mani. Quello che tocca distrugge, quindi evitiamo di affidargli delle creature indifese, no? Vabbè. Per evitare di destare ulteriori sospetti, nel luglio del 1981, Christine decise di tornare nella sua città natale, Perry, nel nord della Florida, e di cambiare il suo profilo professionale, diventando un abbadante per gli anziani. Dopo il primo giorno di lavoro, il 77enne William Zwindle morì inspegabilmente, nonostante i suoi trascorsi, incomprensibilmente nessuno puntò il dito contro Christine, che pur aveva alle spalle già quattro vittime. Nell'autunno del 1981, all'età di 18 anni, Christine tornò a lavorare come babysitter. Questa volta a morire improvvisamente fu la figlia della sorellastra di Christine, Jennifer Daniels, di otto mesi. La madre era andata a fare un po' di spesa e aveva lasciato sua figlia con Christine per alcuni istanti in macchina, alcuni istanti, durante i quali la bambina aveva smesso di respirare. I medici sospettarono che la causa della morte fosse stata la sindrome della morte improvvisa dell'attante, quella che viene chiamata comunemente morte bianca. È incredibile, Christine aveva già ucciso cinque persone e nessuno aveva mai sospettato seriamente di lei e lei, ovviamente, pensando di essere inattaccabile, continuò a cercare nuove vittime. Non sapeva ancora che i suoi crimini, fortunatamente, stavano per essere scoperti. Il suo ultimo omicidio avvenne il 2 luglio del 1982. Mentre Christine si stava prendendo cura di Travis Coleman, di dieci mesi, il bambino morì improvvisamente. Anche se in un primo momento l'autopsia disse che la morte era stata causata da mancanza di ossigeno, presto i medici scoprirono che Travis aveva lesioni interne simili a quelle causate dalla sfissia meccanica, il che significava solo una cosa, qualcuno aveva posto volontariamente fino alla sua vita, soffocandolo. Di fronte alla perdita di cinque bambini ed un adulto, le autorità decisero di rinchiudere Christine in una struttura di salute mentale per un esame psichiatrico. Nello stesso tempo la polizia iniziò a indagare sui casi, efficientissimi come sempre. Finalmente trovarono prove sufficienti per accusare formalmente la tata di tre omicidi di primo grado e le fu finalmente arrestate. La ragazza confessò agli investigatori, non so perché l'ho fatto, non mi è neanche piaciuto, sembrava semplice, ma non lo è stato. Ho messo loro una coperta in faccia perché me lo ha coordinato una voce dentro di me. Durante il processo tenutosi in Florida, Christine Fallin spiegò che aveva imparato ad uccidere grazie a certi programmi televisivi. Per quanto riguarda le sue motivazioni, disse che mentre aveva finito Cassidy, perché era troppo rumoroso, aveva ucciso Jeffrey perché l'aveva fatta impazzire. L'aveva portato fuori dalla culla e aveva iniziato a soffocarlo fino a quando non era morto. Per quanto riguarda la morte di Joseph, confessò che il bambino stava sonnecchiando, poi aveva avuto l'impulso di soffocarlo. Su Travis disse che il bambino stava dormendo quando l'aveva ucciso. Questa confessione aiutò Christine a evitare la pena di morte. Il 17 settembre 1982 il giudice condannò la babysitter a due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale per 25 anni e la ragazza fu portata all'Hawel Correctional Institution di Oakland, in Florida. Dopo aver scontato 25 anni di prigione, Christine avrebbe avuto diritto alla libertà condizionale, ma la sua richiesta fu respinta nel novembre del 2017 perché, mentre era in prigione, aveva confessato alla madre di aver ucciso anche l'anziano William. Christine era troppo pericolosa per essere rimessa a libertà, come disse uno degli avvocati dell'accusa, durante il processo. Lasciare un bambino alle sue cure è stato come consegnarlo al diavolo in persona. E questa è una grave ingiustizia. La ragazza andava riciclata, volevo dire recuperata, ed accompagnata in un percorso che le avrebbe permesso di tornare alla società civile così che potesse riprendere una vita normale e guadagnarsi da vivere onestamente, magari come infermiera, insegnante in un nido o che ne so, come ossi in un nosocomio. Per oggi ci fermiamo qui. Vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo, occhio a chi vi saluta sempre. Ciao